E valsa sicuramente a salvare la vita ad un paziente della rianimazione dell'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, la corsa della gazzella del nucleo radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Battipaia, che in 25 minuti ieri ha percorso i circa 70 chilometri che separano le due città, riuscendo a mettere nelle mani dei medici che ne avevano fatto richieste la prezioso farmaco. Una corsa sul filo dei minuti dalla farmacia dell'ospedale di Battipaia alla rianimazione di Vallo della Lucania, superando ogni difficoltà, visto che il medico che si era rivolto ai carabinieri aveva tenuto a precisare che anche un minuto di ritardo poteva significare la vita o la morte del paziente e non c'era tempo per organizzare un trasporto ordinario. Così dalla centrale operativa della Compagnia di Battipaia immediatamente è partito l'ordine perentorio per l'autoradio 057, una di quelle in turno ieri mattina per il controllo del territorio, alla quale è stata affidata la missione condotta con successo tra lo stupore anche del medico rianimatore del San Luca di Vallo, che in credulo per la celerità non ha potuto far altro che ringraziare i carabinieri.